parliamo oggi del topolino 33 84 iniziamo amici bentornati su recenso la videorubrica di libri fumetti manga film e telefilm nella puntata di oggi come ho detto parleremo del nuovo topolino che per disinfettare mi sa che ho leggermente bagnato le pagine con l'alcol si vede l'alone sugli angoli di tutte le pagine sono scemo che ci devo fare ovviamente tengo tanto a ringraziare ognuno di voi in special modo alessio menci che continua a commentare e guardare i video soprattutto quelli del topolino e lo ringrazio veramente tanto perché molto partecipe non solo su youtube ma anche sugli altri social ne approfitto anche per dirvi che ho fatto una scemenza sono anche già da un bel po di tempo ma questa settimana ho caricato le i primi video e foto sono su tik tok quindi se dovesse piacervi come strumento a me non dice niente lo trovo anzi molto confusionario però staremo a vedere velocemente partiamo con le storie di questo numero la prima storia che incontriamo è l'avviamento di gli italici paperi paperonoro e soci in questo primo episodio che dà avvio quindi a una nuova serie torniamo indietro nel tempo e mentre torniamo indietro nel tempo prendiamo tutti i paperi della classicità paperopolese quindi tutti i protagonisti che conosciamo e li ritroveremo poi quindi in questo viaggio indietro nel tempo nei panni degli italici questo popolo che incontrò e qui nella storia è raccontato per la prima volta il popolo dei romani che era in forte espansione a differenza dei romani gli italici capitanati proprio da paperonoro cioè paperon dei paperoni si mostrano essere un popolo molto coraggioso soprattutto capacissimo negli scambi e nella crescita economica ovviamente la storia ha un ritmo molto interessante nonostante sia solo il primo episodio quindi possiamo dire un po quello introduttivo che dovrebbe dare questo cappello introduttivo in realtà tutti i personaggi sono molto ben caratterizzati ognuno di loro come li conosciamo nella realtà trovano la propria giusta collocazione in questo viaggio nel tempo in special modo devo dire la verità ciccio perché rievocano molto soprattutto quindi ciccio un'ambientazione in stile asterix e obelix mi è piaciuta molto come introduzione come primo episodio quindi staremo a vedere mini pret-à-porter in passerella ragazze seconda parte dopo il grande fiasco della sfilata di moda nel centro commerciale le tre amiche minni betty e priscilla sono praticamente giù di morale l'unica che riesce a risollevarsi quasi nell'immediato è proprio minni che deciderà quindi di dare una mano alle altre due amiche soprattutto a betty di rimettersi in carreggiata la storia ha lo stesso numero di pagine della precedente ma sembra essere molto più breve sostanzialmente racconta questo risollevamento questa ripartenza di questo trio e lo fa in maniera molto semplice e allo stesso tempo abbastanza coinvolgente rimaniamo comunque in un ambiente prettamente e stereotipicamente femminile come può essere quindi un atelier di moda ma allo stesso tempo ci raccontano i personaggi con una grinta in più con una giusta grinta in più perché non sta scritto da nessuna parte che i personaggi femminili debbano essere tutte rose e fiorellini e debbano sempre aspettare i ragazzi per salvarsi o per trovare la loro realtà e questa storia ce lo dimostra perché le persone i personaggi protagonisti si rialzano con le loro stesse forze e camminano sulle loro stesse gambe un bel messaggio che devo dire la verità questa storia riesce nella sua semplicità a raccontare zio paperone è il tesoro extrasolare mentre registro sentirete di sicuro flex trapani e quant'altro mi dispiace noi invece ci concentriamo su questo episodio aiutato nella scrittura dalle conoscenze di licia troisi questa meravigliosa scrittrice italiana che essendo astrofisica ha dato sicuramente del suo nella scrittura di questa storia paperone paperino quico qua e archimede partono con l'ennesimo razzo spaziale in direzione di un pianeta lontano migliaia di anni luce e lo fanno perché paperone è intenzionato a prendere e a lucrare sui diamanti appunto che formano questo pianeta la storia è molto semplice nello stesso momento però ha un grande classicismo sembra veramente uscita dagli anni 80 90 e soprattutto riesce nella suo essere così classica e semplice a raccontarci e a darci tante nozioni di quelle che sono appunto le scienze astronomiche e allo stesso tempo coinvolgono il lettore nell'avventura vera e propria seppur semplice come è stata raccontata che viene quindi presentata in questo episodio un'avventura molto incalzante soprattutto con quei bei letto fine tipici della disney ma sicuramente meno zuccheroso meno smielato così che mantiene tutta la bellezza di un bel finale vita da rock band fare promozione ancora una volta tip tap chiedono aiuto per la loro band allo zio topolino che racconta loro come una volta ottenuto il cd master dei loro pezzi si debbano occupare quindi della copertina della parte grafica e di fare le giuste copie da mandare alle case discografiche anche in questo caso il racconto si svolge per immagini iconografiche che appunto raccontano quello che topolino sta spiegando ma più di questo non so cosa dirvi perché la rosa finisce lì paperi mestieri e guai cuochi da demolizione un'altra storia breve molto molto breve nella quale paperino è coinvolto dall'ennesima idea assurda di paperoga che dopo un corso di formazione preso chissà come decidono di avviare un'attività gastronomica e di ristorazione paperino quindi subirà durante l'intera storia tutti i problemi e i guai che creerà dall'altro lato paperoga la storia ha un grado di divertimento incredibile è molto comica e coinvolgente e soprattutto nonostante la sua brevità è molto coinvolgente appassionante e fatta di colpi di scena uno dietro l'altro l'ultima storia è topolino e il canto delle balene partiamo dal presupposto che forse questa storia è pensata per i più piccolini non è l'unica in questo numero perché è molto semplice e sembra non aver nulla a pretendere topolino e pippo vanno in islanda e aiutati da una guida vogliono vedere le balene e assistere al famoso canto delle balene mentre fanno questo si ritrovano raggiunti da un amico di vecchia data di pippo che in realtà noi già abbiamo incontrato nel numero 32 62 questo alieno formato d'acqua che ha raggiunto il vascello di pippo e topolino perché una balena è in difficoltà parte quindi l'avventura nel tentativo di mettere in salvo questo cucciolo lo si fa in modo molto molto semplice come ho detto senza veramente nulla a pretendere poiché la soluzione si trova quasi nell'immediato però la vicenda si riesce comunque a seguire nella sua totalità ha quindi una risoluzione un po strampalata forse poco realistica ma stiamo comunque parlando del topolino e ripeto quello che mi sembra di aver già detto all'epoca su questo personaggio alieno fatto d'acqua che è insopportabile perché ha un modo di parlare che veramente dà sui nervi età beta a confronto è un santo parliamo quindi dei disegni e degli stili lo facciamo a partire dalla copertina che io trovo veramente stupenda perché i personaggi in primo piano hanno delle linee molto moderne molto morbide e a differenza dello sfondo presenti mentre negli sfondi le linee si vanno ad assottigliare quasi scompaiono in favore di campiture di colore che aiutano così la messa a fuoco tra i primi piani e gli sfondi e allo stesso tempo ovviamente creano profondità meravigliosa vorrei che tutte fossero così il disegno degli italici paperi è semplicemente meraviglioso ha una linea moderna molto morbida molto dinamica abbastanza presente negli spessori ma riesce al tempo stesso a creare quei volumi non solo dei volti e quindi dei personaggi ma anche di tutto ciò che è attorno a loro creando così degli scenari veramente belli da indagare con lo sguardo carichi più o meno di dettagli in modo appunto come succede nella copertina di leggere quello che c'è attorno ai personaggi e quello che c'è addosso ai personaggi per quanto riguarda invece la storia di mini pret-à-porter ancora una volta il disegno rimane lo stesso un taglio e uno stile molto moderni che sicuramente ammiccano alle generazioni più giovani ma questa volta riusciamo con forse più semplicità perché siamo abituati a leggere tutte le vignette soprattutto a differenziare i personaggi che sono in primo piano dagli elementi dello sfondo che sono sì molto semplici ma che riescono comunque a essere letti forse con un po' più di coerenza e solidità per quanto riguarda invece il disegno di zio paperone nella storia coadiuvata da licia troisi semplicemente è uno spettacolo abbiamo a disposizione un disegno molto moderno con dei tratti spettacolari una linea molto morbida e flessuosa i cui scenari sono alle volte molto semplificati ad altri invece carichissimi anche in questo caso di dettagli anche in questo caso la linea degrada negli sfondi man mano che ci si allontana dai primi piani questo aiuta sicuramente la lettura sia dei volumi che delle profondità trovo ovviamente assolutamente meravigliose le espressioni e la resa dei visi dei personaggi uno spettacolo inutile soffermarsi troppo sulla storia e sul disegno di tip tap perché abbiamo visto che sostanzialmente non cambia nulla una linea molto presente molto spessa che perde praticamente tutte le caratteristiche della linea morbida disneyana fa perdere le proporzioni classiche dei personaggi e soprattutto sfigura penso che sia la parola adatta le proporzioni dei volti e quindi anche la resa delle loro espressioni continuo a dire che con lo stile disney questo non ha praticamente niente a che fare il disegno invece di paperino e paperoga anche di vintage così come la storia ci riporta seppur nella sua brevità qualcosa di passato lo fa anche il disegno questo disegno che fa perdere ai personaggi le proporzioni cui siamo abituati ora quindi la canonicità che è stata data allo stile disneyano per tornare a proporzioni un po più datate con i personaggi che sembrano raccolti nelle loro proporzioni e fattezze in schemi un po più quadrati alle volte perdiamo anche le proporzioni e le anatomie in favore forse di espressioni un po più genuine e appunto vintage la storia invece di topolino il canto delle balene ci presenta un disegno molto moderno che come la storia sicuramente ammicca ai più giovani con una linea che sicuramente molto presente ma allo stesso tempo molto dinamica e possiamo dire che ha un lato positivo come nelle storie che abbiamo visto sinora che è quello appunto di degradare man mano che si allontana dai primi piani così da aiutare la lettura e la scansione delle profondità di campo e soprattutto a mantenere le proporzioni classiche dei personaggi questo è quello che penso del numero 3384 ditemi voi la vostra nei commenti qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate vi ringrazio per la visualizzazione se vi è piaciuta questa puntata fatemelo sapere con un bel mi piace condividendola con i vostri amici e soprattutto iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto attivando anche la campanella al lato mi trovate in tutti i social network che vi lascio nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinoacenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziali io sono Dario questa è il recenso e noi ci vediamo lunedì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronti a sfogliare un nuovo topolino e volare insieme nel mondo della fantasia disney